Prima di iniziare col video vi invito a premere la campanella in alto a destra per rimanere sempre aggiornati sui video che usciranno sul canale. Buona visione! Mh, ho come l'impressione che forse vada cambiato il parrucchiere, questo non mi convince più di tanto. Ok che sono un fossile, però minchia, sono scienziato, poteva anche impegnarsi un po' di più per togliere la roccia di troppo, dio mio. Eh, i miei piedi. Aiuto, non cammino più. Ah, e nulla, sono sempre più cornuto del solito. No, adesso vorrei sapere chi è il simpaticone che mi ha incastrato in questa roba sul petto. No, no, seriamente, ti voglio stringere la mano. Ah, no, scusate, questo è un video di Pokémon. No, scusate, volevo andare da Dragon Ball. Scusate, ciao, arrivederci. Perché già avere una faccia dietro la testa non era abbastanza ridicolo, quindi ne abbiamo dovuto aggiungere un'altra. Grazie. Ah, con questa nuova armatura sono pronto a invadere la Polonia. Eh, ok, non vedo oltre il mio naso, qualcuno mi aiuti, sto andando a sbattere. Eh, ecco, ecco, cosa sapevo io. Ok, mi si è attivato il vulcano sulla schiena, qualcuno mi salvi, qualcuno mi salvi, qualcuno mi salvi, qualcuno mi salvi, qualcuno mi salvi. Perché sono diventato un cazzo di zucchero filato? E perché mi sono apparse delle cerniere che prima non c'erano? Mamma, che cosa mi hai comprato? T'ho sempre detto che non mi andavano le alampo. Perché sei uguale a me? Ti stavo per chiedere la stessa cosa. Ma allora funzionavano davvero quei prodotti su Portnab che ingrandivano il... Lasciami stare, c'ho il ciclo. Sarete tutti d'accordo che questo è un coltello molto speciale. E lo credo bene. Questo è il nuovo Miracle Blade 3. Ma, che cosa... Oh, sì, sto bene. Aiuto, sto morendo. Il colesterolo. Ah, scusate, Pokémon. No, no, volevo andare da Yu-Gi-Oh, scusatemi. Eh, ho sbagliato video. Ciao. Ciao. All around me are familiar faces Worn out places Worn out faces Bright and early for the day B